signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale questa settimana ci andiamo a prendere un attimo una pausa da mega dungeon e dungeon non lineari per andare a parlare di qualcosa che è più strettamente legato alla teoria narrativa ma che ci tornerà utile poi nelle prossime settimane sempre parlando di progettazione non lineare mentre stavo preparando la serie di video sul mega dungeon è arrivato un messaggio da parte di mattia di chio del gruppo di segrete dragoni tra l'altro trovate il link al loro gruppo i gioco qui sotto nei commenti che chiedeva di approfondire l'argomento del foreshadowing in relazione al mega dungeon ed effettivamente era un'ottima idea quindi mi sono messo a scrivere quel video e man mano che procedevo mi rendevo conto che c'erano talmente tante cose da dire a riguardo e talmente tante cose da dire che non erano neanche legate strettamente alla progettazione dei dungeon che praticamente avevo scritto talmente tanta roba che potevano essere due video insieme e rimarrete sorpresi dal vedere quanta roba sto scrivendo in questo periodo per cui alla fine ho deciso di scorporare tutto e parlare in questo video specificatamente di foreshadowing senza legarlo alla progettazione non lineare e poi riprendere nelle prossime settimane vedendo come integrarlo all'interno del discorso dei dungeon non perdiamo altro tempo quindi andiamo a vedere cos'è il foreshadowing e come lo potete utilizzare per migliorare le vostre quest cominciamo come sempre dando una definizione il foreshadowing è un artificio narrativo comune a tutte le forme di opera letteraria compreso il gioco di ruolo lo potreste tradurre nel letteralmente come proiettare un'ombra in avanti in realtà la traduzione corretta in italiano sarebbe più semplicemente presagio in narrativa quando parliamo di foreshadowing intendiamo dire che all'interno della storia è presente un qualche tipo di elemento che ne anticipa un altro che avverrà più avanti mi rendo conto che sia una definizione un po' vaga ma il foreshadowing per sua natura ha talmente tanti modi per essere espresso e talmente tanti modi per essere applicato che trovare una definizione che non sia estremamente vaga è effettivamente difficile quindi per rendere le cose più chiare andiamo a fare qualche esempio concreto a livello più basilare qualunque cosa che venga detta dal master di persona o per voce di uno dei png che in qualche modo faccia riferimento a qualcosa che è previsto succedere in quest più avanti è un esempio minimo di foreshadowing quando i giocatori arrivano al villaggio in cerca delle tracce del drago che devono sconfiggerle uno dei png dirà loro che la tana del drago si trova in cima a quella montagna effettivamente la tana del drago si trova lì e i giocatori qualche scena della quest dopo saranno in cima a quella montagna probabilmente dopo la scena in cui loro scalano la montagna a combattere contro il drago quindi le parole di quel png sono state un'anticipazione di qualcosa che avverrà più avanti nella quest e sono per definizione foreshadowing questo però probabilmente per voi è l'uso più banale che potete fare del foreshadowing è comunque utile inserire elementi del genere anche solo per avvisare i giocatori di tenersi pronti per qualcosa se il party deve andare ad ammazzare il drago il drago è un avversario estremamente potente quindi vorranno prendere nuovo equipaggiamento magari equipaggiamento specifico per combattere i draghi e quello che è quindi che qualcuno dica loro ue tra un po' arriva un drago ha un'utilità pratica nella quest non è però il modo più artistico e artificioso che potete usare il foreshadowing all'interno della vostra quest cominciando invece ad andare su metodi più pregni per applicarlo il primo è quello di introdurre possibili conseguenze per un intero arco narrativo se non proprio per un'intera campagna la prima volta che i giocatori entrano in città sentono un chierico della divinità locale che sta lanciando da un pulpito un'invettiva contro i degenerati senza dio che vivono nelle terre dell'ovest e di come qualcuno dovrà andare a fermarli più avanti in un successivo arco narrativo in cui i giocatori effettivamente vanno nelle terre dell'ovest succederà un evento di quest per cui scoppierà una guerra perché un gruppo di zeloti provenienti dal villaggio in cui erano già stati hanno deciso di lanciare una guerra santa contro quella zona anche se non è mai stato detto esplicitamente all'interno della quest che sarebbe scoppiata una guerra santa dal discorso del chierico era evidente che esistevano delle tensioni religiose tra le due regioni ovviamente il collegamento non deve essere così esplicito e diretto magari semplicemente più avanti nella quest i giocatori avranno a che fare per vari motivi con altri esponenti di quel particolare culto religioso e scopriranno che sono particolarmente invasati o particolarmente intransigenti su alcune minuzie della loro regione il concetto rimane lo stesso il master ha mostrato qualcuno che si dimostra un fanatico religioso per fare foreshadowing del concetto che più avanti i giocatori avranno in quest un tema che ha a che fare con il fanatismo religioso in casi come questo però il foreshadowing avviene a livello di metatesto cioè sarà comprensibile per i giocatori ma non sarà affatto interessante né comprensibile per il loro personaggio all'interno del gioco ovviamente non deve per forza essere così gli stessi personaggi potrebbero ricevere un elemento di foreshadowing all'interno proprio della loro storia contemporaneamente ai loro giocatori anche in questo caso volendo fare un esempio banale stiamo parlando del mega dungeon in questo periodo diciamo che il party dei giocatori arriva nella zona del mega dungeon magari entra nel mega dungeon pulisce la prima zona pulisce le prime stanze poi quando deve accedere a un livello successivo si trova la strada sbarrata da una porta magica che per essere aperta richiede un incantesimo o un'abilità che per adesso è di un livello troppo alto per loro e quindi non potranno proseguire fino a quando non avranno fatto altre avventure e guadagnato più esperienza appena il party si renderà conto di questo capirà che non può proseguire in questo momento andrà a fare altro e poi quando si renderà conto di aver finalmente guadagnato quell'incantesimo quello che è tornerà aprirà la porta e proseguirà l'esplorazione del mega dungeon quella porta è un elemento di foreshadowing anche se non è stato detto esplicitamente da un png o dal master ma la presenza di una porta che non può essere aperta per ora significa che quella porta verrà aperta in futuro di conseguenza sia i personaggi all'interno del gioco sapranno che lì ci dovranno tornare ma anche i loro giocatori capiranno che quello è il posto in cui i loro personaggi torneranno più avanti nella storia potenzialmente il foreshadowing potrebbe non essere un elemento narrativo usato nella quest ma un vero e proprio elemento usato da qualcuno all'interno della quest magari un png parlando con i pg farà o dirà qualcosa che si rivelerà in seguito essere stato un vero e proprio presagio di quello che sta per venire mentre i pg partecipano al gran ballo alla corte del re incontrano un png uno dei cortigiani del re che dice loro in maniera criptica che a questo sfarzo questa opulenza stanno mandando in rovina il regno se nessuno farà qualcosa presto il re perderà il suo trono sul momento potrebbe sembrare qualcosa un commento politico da parte di uno dei png della campagna ma magari più avanti in quest il re verrà proprio deposto magari proprio da quel png che avrà fatto un colpo di stato e si sarà sostituito al re quello che all'inizio sembrava semplicemente un commento acido si è rivelato un vero e proprio elemento di foreshadowing non da parte del master ma da parte del png all'interno della storia che ovviamente sapeva che voleva fare un colpo di stato e quindi ha cripticamente avvisato i giocatori di quello che sarebbe successo da lì a relativamente breve sì cattivi fanno queste cose per sentirsi intelligenti credo potenzialmente in questa categoria ricadono anche tutti e quelli che sono proprio i veri presagi previsioni visioni del futuro che i giocatori potrebbero ricevere durante la loro avventura quello è un discorso estremamente lungo ma ne abbiamo già parlato in un vecchio video quindi vi lascio a quello non sto a ripetermi qua ovviamente la cosa può funzionare esattamente dal lato contrario cioè che il foreshadowing può essere utilizzato per anticipare temi eventi da un punto di vista puramente simbolico questo potrebbe rimanere nell'ambito del metatesto dell'avventura in una delle loro prime quest i giocatori verranno assunti dal proprietario di una locanda che ha un'infestazione di ratti giganti in cantina e vuole che gli avventurieri li ammazzano e li assumerà dicendo a quelle sono creature schifose che dovrebbero essere esterminate tutte più avanti in un successivo arco di quest i giocatori saranno chiamati a difendere una città di nani che è attaccata da una banda di ratti mannari e in un successivo combattimento il re dei ratti indicando ai suoi uomini gli avventurieri dirà quelle sono creature schifose che dovranno essere esterminate tutte all'interno della quest questi saranno due eventi slegati e il fatto che due personaggi diversi hanno usato le stesse parole è una mera coincidenza dato che i due probabilmente non sanno neanche della reciproca esistenza però se per i personaggi questa è una coincidenza per i giocatori il valore simbolico di queste parole sarà evidente potenzialmente riferimenti del genere potrebbero non essere metatestuali ma letteralmente paratestuali è il corso della loro avventura i giocatori entreranno in contatto con elementi che si riferiscono a qualcos'altro ma che in realtà poi saranno rilevanti per la loro storia il gruppo di supereroi viene chiamato dal commissario della città che sono anni che cerca di fermare il supercriminale senza riuscirci adesso vuole che quei supereroi lo aiutino sulla scrivania del commissario c'è una coppia di Moby Dick il fatto che Moby Dick sia il racconto di un uomo ossessionato dal catturare la sua preda all'interno del gioco è semplicemente una coincidenza ma il suo valore metatestuale è evidente quel personaggio è ossessionato alla cattura di qualcun altro questi sono ovviamente soltanto alcuni esempi di come il foreshadowing possa essere utilizzato io mi sono concentrato su quelli che hanno un utilizzo più immediato nel gioco di ruolo e nello specifico nella progettazione di una quest tradizionale mettiamola così ma se volessimo espandere il discorso in letteratura il foreshadowing è estremamente diffuso e lo si può trovare in moltissime opere dal fatto che il film che Bruce Wayne era andato a vedere con i suoi genitori quando era piccolo prima che venissero ammazzati era un film su Zorro in molte versioni a il fatto che in Independence Day il tecnico del SETI che per primo ha visto l'astronave aliena sta ascoltando una canzone il cui titolo è This is the end of the world diciamo che oramai però credo che il concetto sia chiaro quindi questo video finisce qui settimana prossima torneremo a parlare di dungeon non lineare mega dungeon e andremo a vedere come utilizzare il foreshadowing specificatamente in quel tipo di progettazione della quest e sì tecnicamente la frase che ho appena detto era un foreshadowing per questo video invece è tutto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo di telegram e al server di discord dove pubblico io i video manualmente e dove si riunisce il resto della community del mastercae per il resto io sono il mastercae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao